Ci vediamo stasera a Malpensa Italia su Rai 2 Rai 2 Rai 2 Buonasera, eccoci ancora insieme per l'aggiornamento della situazione. Nel corso di questo fine settimana le correnti cambieranno, si disporranno dai quadranti settentrionali, quindi la temperatura che è stata levata in questi giorni tenderà a diminuire. Ma andiamo con ordine e vediamo per domani che cosa ci attende. Sulle regioni settentrionali ancora un cielo nuvoloso con piogge qualche temporale sul settore orientale, mentre su quello occidentale nel corso del pomeriggio avremo delle schiarite. Nuvoloso anche sulla Sardegna e sulle regioni centrali con piogge sparse. Inizialmente invece della variabilità al sud della nostra penisola, ma la tendenza qual è? È per un aumento di nubi, specie sul settore occidentale, associato a precipitazioni. Come dicevo le correnti iniziano a cambiare, si dispongono da nord-ovest sulla Sardegna, quindi avremo un vento dimestrale che rinforza e il mare risulterà agitato. Ancora venti occidentali sulle altre zone e mari generalmente molto mossi. Ed ora veniamo alla previsione per la giornata di domenica, quando sul settore nord-occidentale avremo delle schiarite sempre più ampie, ancora delle nubi su quello orientale e per un miglioramento dobbiamo attendere il pomeriggio. Sulle regioni centrali inizialmente un po' di pioggia, ma la tendenza è per un miglioramento, perché proprio queste correnti provenienti da nord-ovest porteranno via le nubi. Ancora tempo instabile e perturbato, i nostri modelli prevedono sulla Campania e sulla Calabria, dove le precipitazioni potranno risultare anche a carattere di rovescio o di temporale. Un po' di variabilità sulle regioni adriatiche. Per quanto riguarda i mari, generalmente agitati tutti quelli occidentali e localmente anche lo ionio, generalmente molto mossi gli altri. Concludo parlando della temperatura, come detto in apertura avremo un cambiamento di correnti, le correnti saranno dai quadranti settentrionali, quindi tra sabato e domenica sicuramente una diminuzione dei valori. Per questa sera è tutto, ma noi ci rivediamo domani. Meteo 2, con la partecipazione di Confetti Promessi Sposi Buonasera e benvenuti a questa edizione del TG2 LIS, lingua dei segni italiana. Dopo un lungo confronto, il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge sulla vicenda di Eluana Englaro, malgrado il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, non abbia firmato il decreto varato dal Governo perché incostituzionale. Il provvedimento adottato dall'esecutivo impedisce la sospensione dell'idratazione della nutrizione artificiale di Eluana Englaro fino a quando non verrà approvata una legge sul testamento biologico. Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato il pacchetto di misure anticrisi e ha dato il via libera agli incentivi per chi rottama le automobili più inquinanti. 1.500 euro di sconto per l'acquisto di vetture Euro 4 ed Euro 5. Per l'acquisto poi sono previste detrazioni anche per chi compra i mobili oppure una nuova lavatrice, misure che nel complesso prevedono all'incirca un miliardo di euro. A Perugia questa mattina, seconda udienza del processo a Raffaele Sollecito e ad Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kercher, presenti in aula agli imputati che hanno sempre respinto l'accusa di essere coinvolti nel delitto. In aula c'era anche il padre di Amanda e lo zio di Sollecito. Per l'omicidio è già stato condannato a 30 anni di reclusione con rito abbreviato Rudy Guedet. In Brasile si riapre il dibattito sull'estradizione dell'ex terrorista Cesare Battisti, importante appoggio del Parlamento europeo all'Italia che chiede a Brasile di rispettare le nostre sentenze. A Bologna una quattordicenne è morta una settimana dopo aver subito un intervento per ridurre una scoliosi. La ragazza aveva subito un arresto cardiaco durante l'operazione e la magistratura ha ora aperto un'inchiesta. Per il momento ci fermiamo, il Tg2 torna come sempre tra poco alle 18.00 e ora a Rai Sport. Arrivederci. Per il momento ci fermiamo. Squilla il telefono, doppia chiamata per Balotelli, convocato da Murigno per Lecce e da Casiraghi per l'Under 21. Samba Juve è il brasiliano Diego, l'erede di Nedved, operazione ormai definita, 30 milioni al Werder. Pensiero stupendo, Ancelotti ritaglia per Ronaldinho un nuovo ruolo, mezzala dietro pato e cacà. Tra i due litiganti sbagliano la Fon e la Persson, via libera l'austriaca Vettel, oro del super combinata in Val di Zerv. Buonasera da Rai Sport, avete sentito dai titoli del colpo di mercato della Juventus che avrebbe chiuso per Diego del Werder. Ne parleremo fra poco. Ora occupiamoci delle prime della classe, Inter e Milan impegnate negli anticipi di domani. Nerazzurri in campo a Lecce alle 18, il Soneri a San Siro con la Regina alle 20.30. Cominciamo con l'attesissima conferenza stampa di Murigno, la seguita per noi Thomas Villa. Ci sono tre momenti, tre tappe, no? Non fai quello che voglio, fai quello che voglio perché io dico e fai quello che voglio senza che dico io. In questo momento fai quello che voglio perché dico in tutti i minuti dell'allenamento quello che voglio. Riabilitato con riserva da José Murigno, dopo sette mancate convocazioni Mario Balotelli torna a essere un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti. Non capitava da Siena-Inter, cioè dal 20 dicembre scorso. Ci sono voluti 45 giorni di purgatorio perché Murigno decidesse di reinserire in prima squadra il promettente attaccante neroazzurro che proprio oggi ha ricevuto anche un'altra bella notizia, la convocazione nell'Under 21 di Casiraghi per la sfida in programma a Trieste l'11 febbraio tra Italia e Svezia. Domani a Lecce dunque Balotelli ci sarà, complici anche le assenze di Cruze e Adriano. Balotelli potrebbe addirittura giocare accanto a Ibrahimovic anche se per una maglia da titolare pronto anche Crespo. Murigno vuole vincere a tutti i costi per consolidare il primato in classifica anche se non sembra essere preoccupato dal gran rientro del Milan. Milan bene, bene. Pato bene, Beckham bene, Kakà bene. Squadra con qualità. Sei punti di meno. È indispensabile per l'Inter ritrovare sia gioco che personalità anche perché si avvicina la partita della verità, quella del 24 contro il Manchester. A proposito sentiamo un brano dell'intervista a Cristiano Ronaldo che andrà in onda domani a dribbling alle 13.30, come sempre su Rai 2. Credo che il Manchester abbia una squadra migliore rispetto all'Inter. Certo, li dovremo affrontare con molta cautela e professionalità. Sarà difficile ma abbiamo più chance di passare. Cosa arrivo a fare per rivincere la Champions? Devo giocare contro i migliori. Incontriamo l'Inter? Non è un problema. Dobbiamo andare avanti. Se battiamo l'Inter siamo a un passo dalla finale. E ora guardiamo insieme gli arbitri designati per la ventitresima giornata. L'anticipo fra Lecce e Inter vedrà diretto dal signor Tagliavento, Milan-Reggina e signor Pierpaoli, Catania-Juventus-Morganti, Rocchi dirigerà Roma-Genoa, Ede Marco-Fiorentina-Lazio. E allora diciamo alle 20.30 l'altro anticipo fra Milan e Regina con tre grandi giocatori sotto la lente di ingrandimento, Beckham, Kakà e Ronaldinho. Oggi ha parlato Carlo Ancelotti di servizio di Tommaso Rocchi. La squadra a pentagono non sarebbe male. A pentagono col trecante. Ancelotti scherza, ma non troppo. Pato e Kakà là davanti sono inamovibili, ma contro la Regina la tentazione di provare Ronaldinho nel ruolo di trequartista è forte. Ronaldinho se dovesse giocare agli era un po' più dietro, anche se magari può essere un po' più decentrato. Poi la posizione se la troverà lui. Però un po' un trequartista, due trequartisti, non è che cambia. Molto. Non è che viene sconbussolato tutto se invece di un trequartista non è proprio un rombo, diciamo, che potrebbe essere un pentagono, diciamo così. Ma la squadra non è che sta andando bene perché non c'è Ronaldinho. La squadra sta andando bene perché ci sono una serie di circostanze, come abbiamo detto, la velocità degli attaccati, la condizione di forma di Kakà, la qualità di Pirlo, l'innesto di Beckham. Non è che questa squadra ha trovato l'identità senza Ronaldinho. Non è assolutamente vero. Ronaldinho ha fatto delle ottime partite nel girone dal data, ci ha trascinato nel momento di difficoltà. Credo che a maggior ragione se dovesse giocare adesso avrebbe sicuramente meno difficoltà rispetto a quelle che magari può aver incontrato nel girone di andata. Ed eccoci alla notizia del giorno. La Juventus, come vi abbiamo anticipato, avrebbe raggiunto un accordo con il Werder Brema per l'acquisto del brasiliano Diego. Ci dice tutto Carlo Paris. Una operazione da 50 milioni di euro è quella chiusa tra Juventus e Nale da 5 milioni di euro a stagione. L'accordo è stato raggiunto la scorsa settimana in Germania, ma sarà ufficializzato se stia pensando al futuro per quel reparto che contro il pieno e Nedved necessita di forze giovani. E Firenze ha riscoperto Adrian Mutu. Due gol lunedì nel recupero di campionato con il Bologno. Ora tanta voglia di vendicare lo 0-3 dell'andata con la Lazio riduce da tre sconfitte con dieci gol subiti. Sentiamo Enzo Baldini. È tornato, ha segnato, ha vinto e con l'1 la Fiorentina di nuovo punta alla vetta della classifica, meglio il quarto posto, obiettivo dichiarato dal club in tempi non sospetti. Sarà un caso, ma con Mutu di nuovo in campo anche Girardino ha ritrovato la via della rete dopo un lungo digiuno.